I promessi sposi di Alessandro Manzoni Continuazione del capitolo decimo Lettura di Chiara Tambani Tra l'altra distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, per compensarla di non poter essere badessa, c'era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo a una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno dei tanti che in quei tempi, e coloro sgherri, e con alleanze ed altri scellerati, potevano, fino a un certo segno, ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlare del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolar lì per ozio, allettato, anziché atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa, un giorno, osò rivolgerle il discorso. La sventurata Rispose In quei primi momenti provò una contentezza, non schietta al certo, ma viva. Nel voto uggioso dell'animo suo, si era venuto a infondere un'occupazione forte, continua, e, direi quasi, una vita potente. Ma quella contentezza era simile alla bevanda ristorativa che la crudeltà ingegnosa degli antichi mesceva al condannato, per dargli forza, a sostenere i tormenti. Si videro, nello stesso tempo, di gran novità in tutta la sua persona. Divenne tutto un tratto più regolare, più tranquilla. Smesse gli scherni e il brontolio, si mostrò anzi carezzevole e magnerosa, di modo che le suore si rallegravano a vicenda del cambiamento felice. Lontane come erano dall'immaginare il vero motivo, e dal comprendere che quella nuova virtù non era altro che ipocrisia, aggiunta all'antiche magagne. Quell'apparenza, però, quella, per dir così, imbiancatura esteriore, non durò gran tempo, almeno con quella continuità ed uguaglianza. Ben presto, tornarono in campo i soliti dispetti e i soliti capricci, tornarono a farsi sentire le imprecazioni e gli scherni contro la prigione claustrale, e talvolta espressi in un linguaggio insolito in quel luogo, e anche in quella bocca. Però, ad ognuna di queste scappate, veniva dietro un pentimento, una gran cura di farle dimenticare, a forza di muine e buone parole. Le suore sopportavano alla meglio tutti quest'alti e bassi, e gli attribuivano all'indole bisbetica e leggera della signora. Per qualche tempo non parve che nessuna pensasse più in là. Ma un giorno che la signora, venuta a parole con una conversa per non so che pettegolezzo, si lasciò andare a maltrattarla fuor di modo e non la finiva più, La conversa, dopo aver sofferto ed essersi morse le labbra un pezzo, scappatele finalmente la pazienza, buttò là una parola che lei sapeva qualche cosa e che, a tempo e luogo, avrebbe parlato. Da quel momento in poi, la signora non ebbe più pace. Non passò però molto tempo che la conversa fu aspettata in vano una mattina a suoi uffizi consueti. Si va a vederne la sua cella e non si trova. È chiamata ad alta voce, non risponde. Cerca di qua, cerca di là. Gira e rigira dalla cima al fondo. Non c'è nessun luogo. E chissà quali congetture si sarebbero fatte se appunto nel cercare non si fosse scoperto una buca nel muro dell'orto. La qualcosa fece pensare a tutte che fosse sfrattata di là. Si fecero gran ricerche in Monza e nei contorni e principalmente a Meda di dov'era quella conversa. Si scrisse in varie parti. Non se ne ebbe mai la più piccola notizia. Forse se ne sarebbe potuto saper di più se invece che cercar lontano si fosse scavato vicino. Dopo molte maraviglie, perché nessuno l'avrebbe creduta capace di ciò e dopo molti discorsi si concluse che doveva essere andata lontano. Lontano. E perché scappò detto a una suora «S'è rifugiata in Olanda di sicuro»? Si disse subito e si ritenne per un pezzo nel monastero e fuori che si fosse rifugiata in Olanda. Non pare però che la signora fosse di questo parere. Non già che mostrasse di non credere o combattesse l'opinione comune con sue ragioni particolari, se ne aveva, certo, ragioni, non furono mai così ben dissimulate. Ne c'era cosa da cui sastenesse più volentieri che da rimestare quella storia, cosa di cui si curasse meno che di toccare il fondo di quel mistero. Ma quanto meno ne parlava, tanto più ci pensava. Quante volte al giorno l'immagine di quella donna veniva a cacciarsi d'improvviso nella sua mente e si piantava lì e non voleva muoversi. Quante volte avrebbe desiderato di vedersela d'innanzi viva e reale piuttosto che averla sempre fissa nel pensiero, piuttosto che dover trovarsi giorno e notte in compagnia di quella forma vana, terribile, impassibile. Quante volte avrebbe voluto sentir davvero la voce di colei qualunque cosa avesse potuto minacciare, piuttosto che aver sempre nell'intimo dell'orecchio mentale il sussurro fantastico di quella stessa voce e sentirne parole ripetute con una pertinacia, con un'insistenza infaticabile che nessuna persona vivente non ebbe mai. Era scorso circa un anno dopo quel fatto, quando Lucia fu presentata alla signora ed ebbe con lei quel colloquio al quale siamo rimasti col racconto. La signora moltiplicava le domande intorno alla persecuzione di Don Rodrigo ed entrava in certi particolari con una intrepidezza che riuscì e doveva riuscire più che nuova Lucia, la quale non aveva mai pensato che la curiosità delle monache potesse esercitarsi intorno a simili argomenti. I giudizi poi che quella frammischiava alle interrogazioni o che lasciava trasparire non erano meno strani. Pareva quasi che ridesse del gran ribrezzo che Lucia aveva sempre avuto di quel signore e domandava se era un mostro da far tanta paura. Pareva quasi che avrebbe trovato irragionevole e sciocca la retrosia della giovine se non avessi avuto per ragione la preferenza data a Renzo. E su questo pure s'avanzava a domande che facevano stupire e arrossire l'interrogata. Avvedendosi poi d'aver troppo lasciata correre la lingua dietro agli svagamenti del cervello cercò di correggere ed interpretare in meglio quelle sue charle ma non pote fare che a Lucia non ne rimanessi uno stupore dispiacevole e come un confuso spavento. E appena pote trovarsi sola con la madre se ne aprì con lei ma Agnese come più esperta sciolse con poche parole tutti quei dubbi e spiegò tutto il mistero. Non te ne far meraviglia disse quando avrai conosciuto il mondo quanto me vedrai che non son cose da farsene maraviglia. I signori chi più chi meno chi per un verso chi per un altro hanno tutti un po' del matto. Convien lasciarli dire principalmente quando sa bisogno di loro far vista ad ascoltarli sul serio come se dicessero delle cose giuste. Hai sentito come mi ha dato sulla voce come se avessi detto qualche gran sproposito io non me ne sono fatta a caso punto sono tutti così e con tutto ciò si è ringraziato il cielo che pare che questa signora t'abbia preso a ben volere e voglia proteggerci davvero del resto se camperai figliuola mia e se t'accaderà ancora ad avere a che fare con dei signori ne sentirai ne sentirai ne sentirai il desiderio ad obbligare il padre guardiano la compiacenza di proteggere il pensiero del buon concetto che poteva fruttare la protezione impiegata così santamente una certa inclinazione per Lucia e anche un certo sollievo nel far del bene a una creatura innocente nel soccorrere e consolare oppressi aveva realmente disposta la signora a prendersi a petto la sorte delle due povere fuggitive a sua richiesta e a suo riguardo furono alloggiate nel quartiere della fattoressa a tigua al chiostro e trattate come se fossero addette al servizio del monastero la madre e la figlia si rallegravano insieme ad aver trovato così presto un asilo sicuro e onorato avrebbero anche avuto molto piacere di rimanervi ignorate da ogni persona ma la cosa non era facile in un monastero tanto più che c'era un uomo troppo premuroso ad aver notizie ed una di loro e nell'animo del quale alla passione e alla picca di prima si era giunta anche la stizza d'essere stato prevenuto e deluso e noi lasciando le donne nel loro ricovero torneremo al palazzotto di costui nell'ora in cui stava attendendo l'esito della sua scellerata spedizione di costruzione